E' partita lo scorso fine settimana la versione estiva del più bel carnevale di Sicilia, quello 10 reale. Non solo carri allegorico grotteschi, ma pure musica e tradizione per queste due giornate speciali. Un weekend dell'insegna dei colori, che ha fatto polverare le maschere, unendo ad esse lo spettacolo e l'atmosfera di festa che l'estate porta con sé. Sabato si è svolta la Notte Bianca, con le attività commerciali che sono rimaste aperte fino a mezzanotte. E' insieme alla parata dei carri allegorico grotteschi, che hanno stazionato lungo il circuito, effettuando delle esibizioni ogni 20 minuti, si è potuto assistere all'opera dei pupi alla Villa Belvedere. In serata, Piazza Duomo ha ospitato i tinturia in concerto. Ieri invece, il Centro Storico ha ospitato la sfilata delle carrozze d'epoca, curata dal gruppo Attacchi Catanesi, insieme alla sfilata dei carri. Dopo un nuovo spettacolo di pupi siciliani, gli archinuè si sono esibiti in una piazza Duomo gremita, che ha accolto con grande entusiasmo anche gli altri ospiti della serata, i soldi spicci, direttamente dalla nota trasmissione televisiva a Colorado. Nel corso delle due giornate si sono esibiti inoltre gruppi folcloristici e band musicali. Si sono alternate mostre ed animazione, cui hanno fatto da sfondo le botteghe artigiane, disposte lungo tutto il circuito. Grande l'affluenza registrata e il cartellone estivo 10 Reale continua stasera con la Notte Muos, serata offerta dall'Associazione Culturale Mario Principato, che vedrà esibirsi i percussonici in Piazza Duomo. Grazie a tutti.